Gli altri accettano la partenza di galoppo Euloget, Extra Model prende la testa nei confronti di Encierro al esterno in corda Edigi di Fico Joe, poi Ernesto Spritz che precede Elton Wise, quindi Eminem Font, rimasto distante anche Noc Si completano i primi 200 metri di corsa che Extra Model passa al comando in 13,9 nella sua scia si sistema Encierro che si mette davanti ad Edigi di Falco Joe che vuole la destra libera poi Ernesto Spritz che precede Elton Wise, quindi Eminem Font, 28,6 per i primi 400 metri di corsa in vantaggio Extra Model che ha preso la testa e ora grado e ritmo Encierro nella sua scia Edigi di Falco Joe in terza posizione avanti ad Ernesto Spritz, quindi Elton Wise ed Eminem Font si ricongiunge in coda Enok che ha rotto una stanga del sulchi, 44,2 per i primi 600 metri di corsa vantaggio Extra Model nei confronti di Encierro, si muove allo scoperto ora Elton Wise che prova a stanare Edigi di Falco Joe il quale rimane però in corda e allora il primo chilometro se ne va con Extra Model al comando che lo passa in 1,14,9 nella sua scia c'è Encierro allo scoperto Elton Wise, chiuso terzo in corda Edigi di Falco Joe seconda pariglia per Eminem Font, poi Ernesto Spritz ed Enok davanti alle tribune una frazione in 14,9 si va piano per la categoria sul piede dell'1,15, Extra Model guida di fuori Elton Wise in corda in sierro, terzo di dentro ed i giri Falco Joe poi Eminem Font, Enok ed Ernesto Spritz, la curva di destra ancora in 15 va più piano che può Roberto Vecchione, a destra il compagno di training muove in terza corsia Eminem Font per anticipare lo scatto di Ernesto Spritz ora si allunga anche davanti Roberto Vecchione però continua a controllare 14,2 la rete di là, 1,59 il miglio Encierro si affaccia su Extra Model, poi Edigi di Falco Joe ora Extra Model cambia marcia, prova a staccare Encierro che è esposto al suo esterno, andrà in open stretch Edigi di Falco Joe, la rete d'arrivo per Extra Model che è in vantaggio inseguito da Encierro poi Edigi di Falco, lo scatto di Encierro che va su Extra Model che si difende Extra Model in vantaggio, Encierro che ci prova Encierro che stampa Extra Model e vince Gasparino Verde porta a casa il Continentale 2024, 28,2 ad arrivare lo scatto di Encierro che brucia